Ciao a tutte e a tutti! In questa video-lezione parleremo di glielo e glielò. Iniziamo da glielo. Non capisco come si usa glielo. Come glielo spiego? Glielo dico? Glielo scrivo? Glielo disegno? Glielo racconto? Ma certo! Ecco la soluzione. Glielo dico, glielo scrivo, glielo disegno, glielo racconto. In tutti questi casi usiamo glielo più un verbo senza ausiliare. Ma posso variare anche il genere e il numero. Ad esempio, bella questa pianta, mamma piacerà. Gliela regalo. Queste macchinine sono nel mio amico Marco. Glielo restituisco. Questi fogli serviranno ai miei compagni. Glieli distribuisco. Vediamo ora glielo. Ho trovato questa pianta per la mamma e glielo regalata. In questo caso abbiamo l'ausiliare avere, o. Quindi cade la A di gliela e arriva l'apostrofo e diventa glielo regalata. Ma possiamo usare anche altre persone del verbo. Ad esempio, Marco ama la crostata e così la mamma gliela cucinata. Che può essere anche tu glielai, noi gliel'abbiamo, voi gliel'avete, essi gliel'hanno cucinata. In analisi grammaticale, glielo, gliela, glieli, gliele, sono tutti pronomi personali. In particolare, glielo e gliela sono di terza persona singolare, glieli e gliele sono di terza persona plurale. Noi per oggi ci fermiamo qui. Alla prossima video-lezione! Grazie a tutti!